Chiudiamo in festa questa puntata di Metalluglio a Doffagna, provincia di Ancona, per presentazione feste medievali con l'assessore del comune Bartoli. Come sarà questa edizione 2020? Naturalmente a causa del Covid-19 non è possibile fare grandi assembramenti di persone, quindi abbiamo pensato di mantenere feste e convivi medievali, quindi fare delle cene in piazza con numero riservato su prenotazione e con degli spettacolini mentre viene svolta la cena, quindi le persone con il distanziamento previsto dalle normative stanno seduti tutti intorno alla piazza e poi ci saranno questi piccoli spettacoli sempre sullo stile medievale e naturalmente anche la cena, è una cena su ispirazione diciamo di cibi medievali. Tutti italiani però stanno arrivando anche qualche straniero e quindi di godersi questo spettacolo in tutta tranquillità con diciamo questa cena medievale popolare, popolare però non una cena diciamo molto sofisticata e faraonica in modo tale anche da contenere un prezzo. Abbiamo messo in ballo tutto quello che era lo spaccato delle nostre feste tagliate a dovere all'interno di queste cene medievali, diciamo non cambiano solo le tempistiche, quindi non saranno spettacoli con tempistiche molto lunghe ma la qualità sarà la stessa. E il cibo sempre più buono. Il cibo sempre più buono.